Musica Ancora tutta intera vedo. Cos'hai trovato? Una lettera di quel vile macandale. Sta preparando una cerimonia. Voodoo? Sì, ma a quale scopo? Potere? Che altro se no? Mostra che hai gli spiriti al tuo fianco. Specie quelli cattivi. E la gente farà ciò che le ordini. Ecco la vera magia. È di là. Nel fitto degli alberi. Ferma. Conosco questi uomini. Sono schiavi in fuga. Vengono da Saint-Danger. L'ammasso di Barat? Sì. Non si può che chiamarlo così. Un posto orrendo, miserabile. Gli uomini al tuo campo venivano da Saint-Danger. Sì. Rossillon non voleva che li reclutassi. Ma ormai si è abituato. Ti prego, non fargli del male. C'è bisogno di dirlo. Buona fortuna. Vai. Mi trovi in ufficio se mi vuoi. C'è bisogno di dirlo. Buona fortuna. Mi ho fidato seguace. I preparativi sono completati. La cerimonia avrà luogo alla vigilia di San Giovanni. Raduna i miei fedeli. Buona fortuna. 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 a le palle d'acciaio ebbene dov'è Elisa? la mia compagnia non ti basta oh mi ferisci avanti dimmi cosa hai scoperto sono degno di fiducia quanto la signora lo giuro non mi serve un confidente ma un informatore ma canda altera una cerimonia alla vigilia di san giovanni stasera ma non so dove so chi può aiutarti ma tu aiuterai me in cambio c'è un o o o uno stregone a san d'anje e occhi e orecchie della pandè Elisa gli sta portando delle cose ma ha scordato questo è difficile trovare un criminale onesto di questi tempi porta se si fiderà la palude non avrà segreti per te grazie a proposito torna quando hai finito avrei un paio di lavoretti per una donna del tuo calibro e anche del lavoro vero ahahahah